Musica 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 se ci arriva ancora io i fiori quando si chiusi di ombra ogni quello che inti è una cosa che mi ha detto i fiori i fiori quando mi hanno preparato e quando io mi sono detto ci siamo quando io mi vede di aci in diretto la treffina i che non mi hanno preparato non c'è il mio non c'è tutto ma prima cosa are you done are you done yeah when you say what just I say what a blocks what's if you're to prepare to do not going to intimate mountain what my show hi what yeah thank you thank you if you know so now we'll see you some in a mission me that's it bye 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 oh Guarda l'intervista. Ehi, chi mi ha fatto? Ehi, chi mi ha detto? Ehi, chi mi ha detto? Ehi, chi mi ha detto, io lì. Ehi, non hai detto, e io ho detto. Ehi, sono qui. Sono qui la mia amante? Non, perché non, non ho fatto la mia amante? Non, non ho fatto il giusto! Non, non ho fatto il spesso. Non è un giusto! Non, 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 non. E se si sono spettacoli i человечi, non si si è ognuno, non ci si sono posizioni, non ci si è ognuno, non si è ognuno, non ci si è ognuno, non ci si è ognuno, non ci si è ognuno. Sveldi. Ce niente le compagnie, allora si credo, io ho cominciato alla della città, francese. Se è uscire, noi ci sono i padri, ci sono i suoi stati, Boo! Voi! Voi? 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 Voi! Voi? Da me ritorno dopo che ciò che ciò che ha iniziato. Non ti c'erano il nostro certificato. Tu non lo so. Avevo il presto a lei. Ma non è la mia visione? Ma non è la mia visione? Non gli sono amici per la mia visione che aveva questo. E abbiamo fatto prendere il nostro calcio? Dai, come un'anima. Quindi l'e Casey aveva questo. Mi ha vinto a fare una visione? La visione è una visione? Adesso mi diceva? tra la salute è un posto perchè si fa e Hepa Non lo so io senza il mio padre i dicci il tuo padre non avevo le mie lui mi sono già chiesto non si sono ora non si non è il tuo padre non è che li hanno chiesto adesso glielo io tu li è come, non? non si troma il mio il mio io cazzo e qui hai il mio io hai il mio padre io hai il mio padre io ti ho venduto non ci vediamo ma non 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 ne abbiamo una 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 un aspect No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.